Zeynep aveva lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Si era impegnata negli studi, ottenendo ottimi voti e distinguendosi tra i suoi compagni di scuola. Il suo talento e la sua determinazione non passarono inosservati, e presto le si presentarono diverse opportunità per entrare in contatto con persone influenti. Zeynep sapeva che il suo aspetto attraente e il suo carisma naturale potevano aprirle molte porte, e non esitava a sfruttare queste qualità a suo vantaggio. Quando incontrò Emir, figlio di uno degli uomini più potenti della città, vide un'opportunità che non poteva lasciarsi sfuggire. Emir era affascinato dalla bellezza e dall'intelligenza di Zeynep, e presto i due iniziarono una relazione. Tuttavia Zeynep si conto che, nonostante il suo legame con Emir, la vera fonte del potere era Galip, il padre di Emir. Galip era un uomo imponente, con una presenza carismatica che incuteva rispetto e timore. Il suo potere e la sua influenza erano ineguagliabili, e Zeynep capì che avvicinarsi a lui avrebbe potuto cambiare la sua vita in modo significativo. Galip aveva sempre notato Zeynep, la giovane e ambiziosa donna che si era legata a suo figlio. Anche se cercava di mantenere un atteggiamento distaccato, non poteva fare a meno di essere attratto dalla sua determinazione e dal suo spirito indomabile. Le cose cambiarono una notte, durante una festa aziendale, quando Galip notò la solitudine negli occhi di Zeynep. Era un momento di debolezza, un attimo in cui Zeynep sembrava vulnerabile e bisognosa di conforto. Quella notte Galip decise di avvicinarsi a Zeynep. La trovò sola in un angolo, lontana dalla folla rumorosa. Con un sorriso enigmatico le si avvicinò e le offrì un drink. Zeynep, sembri persa nei tuoi pensieri, disse Galip con un tono di voce rassicurante. Zeynep, sorpresa dalla sua attenzione, rispose con un sorriso timido. «È solo che a volte mi sento fuori posto in questi eventi», confessò, cercando di sembrare disinvolta. Galip colse l'opportunità per approfondire la conversazione. «Sai, Zeynep, vedo in te un grande potenziale. Sei una donna forte e intelligente. Meriti molto di più di quello che hai». Le parole di Galip la colpirono profondamente. Nessuno l'aveva mai lodata in quel modo. Zeynep si sentiva attratta dal potere di Galip e dalla sua capacità di farla sentire speciale. La conversazione continuò, diventando sempre più intima. Quella notte, spinta dalla sua ambizione e dal fascino di Galip, Zeynep cedette alla tentazione. Nei giorni seguenti, Zeynep cercò di reprimere il senso di colpa e di continuare la sua vita come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, le conseguenze del loro incontro segreto iniziarono a manifestarsi in modi inaspettati. Zeynep si rese conto di essere incinta e il pensiero che il padre potesse essere Galip la terrorizzava. Nonostante i suoi sforzi per mantenere il segreto, i sospetti iniziarono a crescere. Emir, noto per la sua gelosia e il suo carattere possessivo, notò i cambiamenti nel comportamento di Zeynep e la tensione tra loro aumentò ulteriormente. Quando la notizia della gravidanza di Zeynep si diffuse, Emir era inizialmente felice, ma presto iniziò a sospettare che qualcosa non andasse. Galip, d'altra parte, era diviso tra il desiderio di proteggere Zeynep e la paura delle conseguenze se la verità fosse venuta a galla. Non poteva permettersi di compromettere la sua posizione e il suo potere. Decise di affrontare Zeynep in privato. «Zeynep, dobbiamo parlare», disse Galip una sera, con un tono che non lasciava spazio a repliche. Zeynep sapeva che il momento della verità era arrivato. Lo seguì nel suo ufficio, il cuore che batteva forte. «Cosa intendiamo fare?», chiese Galip, cercando di mantenere la calma. «Non lo so, Galip, non so cosa fare», rispose Zeynep, la voce rotta dall'angoscia. Galip, il padre di Emir, era un uomo potente e influente. Il suo carisma e la sua presenza autoritaria avevano sempre suscitato un misto di rispetto e timore in chiunque lo circondasse. Galip aveva sempre notato Zeynep, la sorella minore di Kemal, e il suo spirito ambizioso. Le cose cambiarono una notte, durante una festa aziendale, quando Galip notò la solitudine negli occhi di Zeynep. Quella notte Galip decise di avvicinarsi a Zeynep. La trovò sola in un angolo, lontana dalla folla rumorosa. Con un sorriso enigmatico le si avvicinò e le offrì un drink. «Zeynep, sembri persa nei tuoi pensieri», disse Galip con un tono di voce rassicurante. Zeynep, sorpresa dalla sua attenzione, rispose con un sorriso timido. «È solo che a volte mi sento fuori posto in questi eventi», confessò, cercando di sembrare disinvolta. Galip colse l'opportunità per approfondire la conversazione. «Sai, Zeynep, vedo in te un grande potenziale. Sei una donna forte e intelligente. Meriti molto di più di quello che hai». Le parole di Galip la colpirono profondamente. Nessuno l'aveva mai lodata in quel modo. Zeynep si sentiva attratta dal potere di Galip e dalla sua capacità di farla sentire speciale. La conversazione continuò, diventando sempre più intima. Quella notte, spinta dalla sua ambizione e dal fascino di Galip, Zeynep cedette alla tentazione. Nei giorni seguenti, Zeynep cercò di reprimere il senso di colpa e di continuare la sua vita come se nulla fosse accaduto. Tuttavia, le conseguenze del loro incontro segreto iniziarono a manifestarsi in modi inaspettati. Zeynep si rese conto di essere incinta e il pensiero che il padre potesse essere Galip la terrorizzava. Nonostante i suoi sforzi per mantenere il segreto, i sospetti iniziarono a crescere. Emir, noto per la sua gelosia e il suo carattere possessivo, notò i cambiamenti nel comportamento di Zeynep e la tensione tra loro aumentò ulteriormente. Quando la notizia della gravidanza di Zeynep si diffuse, Emir era inizialmente felice, ma presto iniziò a sospettare che qualcosa non andasse. Galip, d'altra parte, era diviso tra il desiderio di proteggere Zeynep e la paura delle conseguenze se la verità fosse venuta a galla. Non poteva permettersi di compromettere la sua posizione e il suo potere. Decise di affrontare Zeynep in privato. Zeynep, dobbiamo parlare, disse Galip una sera, con un tono che non lasciava spazio a repliche. Zeynep sapeva che il momento della verità era arrivato. Lo seguì nel suo ufficio, il cuore che batteva forte. «Cosa intendiamo fare?» chiese Galip cercando di mantenere la calma. «Non lo so, Galip, non so cosa fare», rispose Zeynep la voce rotta dall'angoscia. Galip prese un respiro profondo. «Dobbiamo mantenere questo segreto per il bene di tutti. Se Emir scopre la verità, distruggerà tutto». Zeynep annuì, ma sapeva che non sarebbe stato facile. Il peso del segreto era troppo grande e la sua coscienza non le dava tregua. Col passare del tempo, la tensione tra lei e Emir raggiunse il culmine. Emir iniziò a investigare, determinato a scoprire la verità dietro il comportamento strano di sua moglie e il coinvolgimento sospetto di suo padre. Una notte Emir trovò Zeynep piangere nella loro camera da letto. «Zeynep, devi dirmi la verità. Cos'è successo tra te e mio padre?» chiese il tono disperato. Zeynep sapeva che non poteva più mentire. «Emir, c'è qualcosa che devi sapere?» iniziò, ma le parole sembravano bloccarsi in gola. Emir si avvicinò guardandola negli occhi. «Dimmi, Zeynep, qualsiasi cosa sia dobbiamo affrontarla insieme». Con il cuore pesante Zeynep confessò tutto. Le lacrime scesero lungo il suo viso mentre raccontava di quella notte e delle conseguenze devastanti. Emir era scioccato, il dolore e la rabbia si mescolavano nel suo sguardo. «Come hai potuto?» urlò Emir, la sua voce piena di tradimento. «Mio padre, come hai potuto?» Zeynep crollò in lacrime, incapace di rispondere. Galip, che aveva ascoltato la conversazione da dietro la porta, entrò nella stanza cercando di intervenire. «Emir, basta!» disse Galip cercando di mantenere la calma. «Questo non aiuterà nessuno». Emir si girò verso suo padre, il viso contorto dalla rabbia. «Tu non sei più mio padre», disse con una freddezza che gelò il cuore di Galip. La verità era venuta a Galla e con essa la distruzione di una famiglia. Zeynep sapeva che la sua vita non sarebbe mai più stata la stessa. La sua gravidanza, una volta fonte di gioia, era ora un simbolo del suo tradimento e del caos che aveva causato. Con il tempo, Zeynep cercò di ricostruire la sua vita, ma le cicatrici del passato erano profonde. Emir si allontanò da lei, incapace di perdonare. Galip, consumato dal senso di colpa, cercò di fare ammenda, ma il danno era irreparabile. Zeynep trovò la forza di andare avanti, consapevole che il suo errore avrebbe avuto conseguenze per tutta la vita. Decise di crescere il bambino da sola, determinata a dare a suo figlio una vita migliore, nonostante tutto. Il percorso non fu facile, ma Zeynep scoprì una nuova forza dentro di sé. La sua storia divenne un monito di come le azioni avventate e i segreti possano distruggere vite, ma anche di come, nonostante tutto, si possa trovare la forza di andare avanti e ricostruire. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Endless Love. Cosa pensi di questo tradimento? Te lo aspettavi? Scrivilo nei commenti sotto al video.